Angelo Di Tommaso, presidente del circolo fotografico Fotomatori Sangroaventino, ci spiega come viene organizzato questo primo trofeo Sangroaventino. Il primo trofeo Sangroaventino è un concorso fotografico a livello nazionale che è stato patrocinato dall'albo dei geologi della regione Abruzzo, dal patto territoriale Sangroaventino, dalla provincia di Chieti e dalla Federazione Italiana di Associazioni Fotografiche. Il concorso si svilupperà in tre sezioni, c'è una prima sezione che riguarda il nostro territorio, il territorio del Sangroaventino, quindi bisogna presentare fotografie che sono inerenti a tutti i comuni che fanno parte dell'associazione. Poi c'è il tema libero, bianco e nero colori e poi c'è un terzo tema, geologia, le forme e i colori della terra, dove gli autori dovranno presentare delle fotografie riguardanti appunto questa disciplina. Il termine di presentazione delle fotografie è il 26 ottobre. I fotoamatori possono presentare le fotografie sia inviandole per mail al nostro indirizzo, le possono inviare per posta sul cd oppure le possono anche caricare direttamente sul sito del circolo. Il 4 novembre si riunirà la giuria molto qualificata e il 18 novembre ci sarà la cerimonia di premiazione con la proiezione delle fotografie ammesse e premiate al concorso presso la sede del patto territoriale Sangroaventino a Rocca San Giovanni. La giuria è composta da Bruno Colalongo, delegato regionale per la Federazione Italiana di Associazioni Fotografiche, Armillotta Francesco, un fotoamatore di Manfredonia e infine Gianni Ovacchini che è un docente del Dipartimento delle Attività Culturali della Federazione Italiana. Per quanto riguarda i premi, al miglior autore in assoluto per tutte e tre le sezioni andrà una tela di un artista salentino, di un pittore salentino, Salvatore Mercuri, del valore di circa 1000 euro. Per il tema libero, visto che parteciperanno soprattutto degli autori da fuori regione, abbiamo pensato di costituire il monte premi con dei soggiorni nella nostra zona. Invece per le sezioni Il territorio del Sangroaventino e Geologia abbiamo messo dei premi in denaro, quindi 200 euro al primo, 150 euro al secondo e altre pubblicazioni, libri di fotografia. Per maggiori informazioni su come partecipare al concorso? Il sito è internet www.fotoamatorisangroaventino.it oppure per mail fotoamatorisangroaventino-gmail.com Grazie. Grazie.